Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! Una buona collaborazione, quindi ho avuto l'opportunità di portarvi questo titolo dopo Crusader Kings 3. Victoria 3 è ambientato ai primi anni del 1800 fino ai primi anni del 1900, età vittoriana, ed è basato rispetto a quello che era Crusader Kings 3, che è medievale, con i vari regni, i ducati, le baronie, intrallazzi, matrimoni, cose varie, questo è più basato sull'economia. Ha anche la guerra, ma è basato sull'economia. Il disclaimer che vi faccio è questo, questo non è un gameplay, non è un tutorial, ma voglio solo farvi vedere quello che offre il titolo e soprattutto dirvi che esiste, perché magari qualcuno lo chiede com'è, com'è fatta e com'è non è fatta, c'è la traduzione in italiano, tra cui ha collaborato anche un utente che commenta spesso i video ed è Turk75, ha collaborato in parte, ed è un bel gruppo di traduzione. Quindi la traduzione l'ho trovata buona per quello che ho visto, ma si sa che chi ha realizzato anche quelle passate della Paradox sono stati sempre degli ottimi traduttori. Il gioco inizia o con un tutorial sterminato, che io non ho finito ovviamente, e farò, quindi imparerò a giocarlo volta per volta. Il gioco, vi faccio vedere anche il livello di traduzione, avete la possibilità di imparare a giocare, il dominio economico, la genomonia, la società è ugualitaria o la sandbox dove giocate e fate quello che volete. Ci sono le regole di gioco, con i preset, che adesso non ce ne sono perché non ne ho salvati. La sandbox fate quello che volete, qua dovete portare tutto in egualitario, egemonia, quindi vincere anche militarmente sugli altri, e il dominio economico vincere economicamente. Io ho la partita che ho salvato, chiamata test, con il Belgio, è una delle nazioni consigliate per l'inizio del tutorial, il tutorial è guidatissimo, come tutti i titoli Paradox avete la possibilità con spazio di avviare o mettere in pausa, fino a una velocità di 5. Io ho il Belgio, ma se calcolate, premendo Tab, c'è la possibilità di vedere tutto il mondo, e potete fare qualsiasi cosa, dal shogunato giapponese, il grande king in Cina, gli Stati Uniti d'America che non hanno ancora conquistato parte della California, Texas, insomma le varie cose, il Messico qui, la parte qui che è americana, che poi è giusto giusto il confine, e così via. Io ho scelto il Belgio, non so il motivo, ma è quella che mi ispirava di più tra le nazioni iniziali. Il Belgio è diviso in due regioni, le Fiandre e la Vallonia. Ora, le risorse sono ovviamente, essendo un gioco basato sull'economia, diverse da quelle dei Crusader Kings, dove c'era la religione, i favori, insomma le cose varie. Qui c'è la burocrazia, l'autorità, l'influenza e il denaro. Ora, quello che io vi voglio dire è, se siete degli appassionati di strategia, di economia, ma questo video vi serve semplicemente per vedere i vari menu che ci sono di gioco, quindi farvi un'idea sulle possibilità che si possono fare in gioco, e verificare appunto anche il livello di traduzione generale. Se lo volete giocare in italiano e non avete problemi, tutti lo giocano in inglese, c'è la traduzione in italiano, e quanto visto ora, a parte qualche riga ogni tanto di una stringa mancante, non mi sembra assolutamente male. Quindi, voi avete la politica, con il tipo di governo, potete riformare il governo, quindi andare a inserire voi stessi le fazioni dell'opposizione dentro il governo, quindi cambiare la conformazione del vostro governo, gli interessi attivi, e potete promulgare le leggi e appunto questi movimenti politici potete promulgarli anche loro in legge. Avete la panoramica sul sovrano, in questo caso, poi se avete una repubblica quello è un altro discorso, e poi avete le leggi, le leggi che sono divise in strutture del potere, in economia e i diritti umani. Quindi, ad esempio, possiamo vedere la politica commerciale, abbiamo il mercantilismo, quindi ci mette un tipo di possibilità di commercio con dazzi vari, c'è la schermata dei dettagli, che ci dà tutti i dettagli, cioè veramente incasinatissimo il gioco, cioè per gli appassionati è manna dal cielo. E poi le istituzioni che abbiamo, l'educazione. Poi potete andare a vedere qualsiasi cosa, la monarchia, la repubblica presidenziale, abbiamo la possibilità, ma non è detto che succeda, ogni anno del 13% se decidiamo di promulgarla. Una repubblica parlamentare, cioè cambiare proprio tutto. Questo è una roba grossa, il cambio del governo. Il voto, il voto in questo caso si vota per ricchezza, quindi è molto profondo, profondissimo il suffragio censitario, il suffragio universale, cioè cambiate radicalmente quello che può essere la struttura di uno Stato. Abbiamo il bilancio, possiamo vedere tutto il bilancio dovuto a tasse, tasse sul reddito, i dazzi, il conio, gli accordi diplomatici che avete, il reddito aggiuntivo. Avete le spese nazionali, divise anche comunque per gli stipendi, i salari, i governativi, gli edifici, gli accordi diplomatici anche qui, gli interessi, le spese aggiuntive e le sovvenzioni. Io adesso ho delle sovvenzioni perché poi ci arriviamo al motivo per cui ho le sovvenzioni. Gli stati, quindi abbiamo i sottostati insomma, qui, con le loro spese e le loro tasse, quindi il bilancio, i salari, insomma abbiamo un conto totale. Vi ho detto, non è un tutorial, vi sto solo facendo vedere quello che ho visto. Abbiamo gli edifici. Gli edifici è una panoramica molto importante a cui possiamo accedere anche premendo direttamente sui singoli stati. Gli edifici sono importanti perché? Perché ad esempio vedete che qui c'è una fabbrica d'armi che il tutorial mi ha fatto portare in positivo perché mi diceva, guarda, sta andando male, migliorala. Possiamo aumentare, espandendo queste industrie, l'espansione ci porta a una diminuzione dei guadagni magari perché non abbiamo la gente per mandarla a lavorare lì, non c'è abbastanza gente. E dobbiamo fare anche attenzione perché nei metodi di produzione noi possiamo andare, ok, ad espanderla ma possiamo cambiare il metodo di produzione, quindi qui produciamo i moschetti andando avanti con la ricerca perché ovviamente non ce l'abbiamo a produrre i fucili oltre ai moschetti però ci chiedono più materiali, quindi ci chiedono anche gli utensili qua, vedete, e l'acciaio. Possiamo cambiare la produzione dei cannoni oppure dare priorità solo alle armi leggere in questo caso perdiamo 15 di artiglieria che ci garantisce la produzione dei cannoni e l'agilità di mercanti o andare in proprietà privata, società per azioni, gestione governativa, cooperativa, operaria. Tra l'altro io di recente ho studiato anche del diritto amministrativo per conto mio e mi ci ritrovo perché comunque è una cosa che ha il suo perché, insomma c'è un motivo, quindi è fatto bene. E andando sui materiali richiesti dal processo, quindi in questo caso ferro e legno, possiamo andare a aprire delle rotte commerciali per importarli ma come possiamo notare qua nelle fiandre abbiamo appunto questa fabbrica ma possiamo andare a vedere che cos'altro abbiamo riguardo soprattutto alle risorse. In questo caso andiamo in valloni e vediamo che abbiamo delle miniere di ferro. Le miniere di ferro io le ho portate a livello 7. Anche qui l'attrezzatura picconi e pale o la pompa a vapore, in questo caso migliora la produzione poi ognuna ha le sue differenze perforazione manuale o con la nitroglicerina e ci consuma però degli esplosivi per produrre per 84 di ferro in più. Qua abbiamo l'automazione a vapore con la gru manuale, il vericello a vapore, abbiamo, io ho inserito il trasporto su rotaia e la proprietà è una proprietà privata. Possiamo sovvenzionare, cioè se la produttività va male interveniamo noi a livello statale, lo sovvenzioniamo, spendiamo del denaro che noi abbiamo ma quell'attività risulta in positivo. E qua vediamo il processo della produzione del ferro, in questo caso non c'è l'esplosivo perché non usiamo tecnologie esplosive, non le abbiamo, ma consumiamo dei trasporti, del carbone e degli utensili e produciamo il ferro. Se aumentiamo la produzione ci costa relativamente poi meno e in questo caso possiamo andare a intervenire anche sul campo di legname che anche qui ho potenziato, anche qui con le sue relative scelte di produzione. Vedete quante ce ne sono, trasporto su rotaia, sovvenzionare anch'esso. In questo caso aumentando la produzione di legname e di metallo ho diminuito il costo della produzione delle armi, ma non contento ho deciso di esportare questi due all'estero e quindi vendo i cannoni alla Russia. Un caso adesso l'ho fatto. Abbiamo un'ottima produttività per questa azienda e il tutorial me l'ha fatto sistemare. Potete vedere tutti gli edifici e cliccandoci vedete in che regioni ne abbiamo, che tipo di tecnologie sono, di che livello sono e potete andare a espanderle. O espanderle automaticamente o sovvenzionarle. Quindi qui c'è il controllo totale di tutte le cose. Quindi abbiamo visto che si regola il governo, le leggi, si vede il bilancio, si gestiscono gli edifici e si gestisce anche il commercio. Perché il commercio, vabbè, vi faccio vedere dalla panoramica di commercio. Potete costruire degli edifici, porti, settori edili, ferrovie, spostare la capitale del mercato, rotte di import ed export. Per ogni cosa vedete dove commerciate, dove avete il porto, dove vi è più facile commerciare. Noi con gli inglesi siamo più favoriti e vedete dove andate a guadagnare. Questo è a grandi linee, non vi sto spiegando nulla, però vi faccio vedere quello che è. La panoramica produttiva, gli allevamenti di bestiame, i fattori di grano, ci fa vedere quelle che possediamo. Perché queste sono tutte panoramiche, eh. La panoramica diplomatica. Possiamo dichiarare interessi, creare una colonia, possiamo fare dei giochi diplomatici. E questo anche per farvi vedere il livello di traduzione. Abolire la schiavitù, annettare stato cliente, l'apertura del mercato, il cambio di regime, la conquista dello Stato, l'indipendenza, prendere il porto del trattato, restituzione dello Stato, ridimensione, trasferire stato cliente, trasformare un dominio, trasformare in un bassallo, trasformare in uno Stato fantoccio, umiliazione. Cioè, ce ne sono tante da fare. E poi c'è tutta la panoramica che io non so ancora, non conosco proprio per nulla, delle forze armate. E le forze armate sono in genere divise tra l'esercito e la marina. Ci sono le guarnigioni, ci sono la marina. Insomma, si gestisce ovviamente in minima parte. Cioè, per quello che era, ad esempio, un Europa universale, si era fortemente basato su il militare, Crusader King meno anche. Che però era basato sugli intrallazzi, creare il gancio, creare il falso documento. Questo invece rimane su quella linea lì, secondo me, sulla linea di Crusader King, ma con una fortissima influenza di mercato, diplomazia, tecnologia. La tecnologia è questa. Ogni nazione parte da un livello diverso. Quindi avete delle cose da ricercare. Distillazione frazionata sblocca l'ambicchia colonna per l'edificio e industrie alimentari. Quindi se noi andiamo nell'industria alimentare, andiamo a avere una tecnologia in più. E ce ne sono tante per la produzione, per le forze armate e per la società. Si arriverà fino alla produzione col vapore. Insomma, le industrie di fine ottocento, inizio novecento. La diplomazia, invece, possiamo dichiarare interessi, fare guerra, giochi diplomatici, insomma, come abbiamo visto. Abbiamo la Vallonia che è uno stato cliente, quindi non è ancora unificato. È un unico stato, ma va bene. Le culture, stessa cosa, come abbiamo già visto in Crusader King, ci sono le varie culture. Ce ne sono tante. Poi, vabbè, adesso fiamminga, vallone, tedesca, protestante, vabbè, le varie religioni, il tumulto che hanno, la forza politica che hanno, e così via. La popolazione è importante perché la popolazione, si chiamano poppa in gioco, quello che ho capito, ci sono, in ogni industria, nei mulini tessili, ad esempio, possiamo vedere i lavoratori che ci sono, i capitalisti, i macchinisti, i lavoratori. Tutto questo è un concetto piuttosto complicato, quello che si vede in gioco, perché le riserve di cassa sono di proprietà dei popolani, dei poppa. E praticamente tutto questo dato tiene conto anche della proprietà privata, quindi di quello che possiede uno, i dividendi che hanno, insomma i guadagni che hanno. Quindi è complessa la cosa e ci dovrò studiare se deciderò di continuare ad approfondire questo titolo. Poi magari voi, se magari avete visto il video, vi informerete, troverete dei tutorial davvero splendidi che vi insegneranno e tutto per tutto, tornate su questo video e consigliatemelo sotto nei commenti, perché mi farebbe molto piacere. Adesso io ho visto una cosa, ma potrei andare ad esempio a vedere nella fattoria di grano, io avevo visto che c'erano, vedete, 900 aristocratici, 2.250 ecclesiastici, 8.100 lavoratori, 29.000 lavoratori normali. Vedete che cambiano le cose, cambiano tanto. Abbiamo il processo che consuma fertilizzante, che consuma utensili, a questo punto possiamo vedere i prezzi di questo guadagno. E vediamo anche a che livello siamo di produzione mondiale nel mondo. Il migliore è la Gran Bretagna, c'è anche la Regno delle Due Sicilie, e ogni stato ha i suoi parametri prettamente economici, perché se vedete è una potenza principale, a rango dodicesima nel mondo, ha un PIL di 8.100.000, sterdine. Cultura è un'italiana del sud, cattolica, la capitale è la Campania, monarchia assoluta, ha una potenza di esercito di 53 e marina 12. Atteggiamento nei nostri confronti è diffidente, le relazioni sono neutrali e l'infamia è rispettabile, insomma, quindi potete vedere che il loro PIL, e con questo tipico dei giochi Paradox, menu dove potete fissare e continuare ad approfondire i vari collegamenti, sappiamo che il PIL siciliano è il sedicesimo a livello mondiale. Se noi dovessimo vedere il nostro, non saprei dove guardare. PIL, eccolo qui. Siamo, il PIL nostro, non saprei dove vederlo, Belgio, eccolo qua. Il Belgio ha un PIL, vedete io, faccio fissare in alto, siamo ventesimi a livello mondiale, monarchia costituzionale, abbiamo forza marina 0, e lì potremmo decidere di andare a espandere cose. La costruzione di edifici c'è anche in Crusader Kings, ma ha un focus minore, nel senso che all'inizio del gioco, ora che prendete confidenza con tutto quello che il gioco deve offrire, l'ultima cosa è costruire, e quando avete un'ottima... Qua invece lo dovete fare, quindi insomma, il mondo è grande. L'avanzamento del gioco avviene per lunedì sera, poi c'è il lunedì notte, e poi il martedì mattina, il martedì pomeriggio, il martedì sera, il martedì notte, e poi passa il giorno dopo. Quindi l'evoluzione è questo. Queste sono le missioni, qua abbiamo la promulgazione sulle leggi, che possiamo andare a vedere, ci sono gli eventi, credo ci sia meno testo rispetto a un Crusader King, dove era più narrata la cosa, ma la traduzione, vi dico, è fatta davvero molto bene. Quindi quello se avete il dubbio. La panoramica militare, base navale, che non abbiamo. Possiamo costruirla, tra l'altro. Vedete, la possiamo costruire, una base navale, e ci vorranno quattro settimane per costruirla, e a quel punto completerà. Adesso hanno rifiutato, avevo fatto un accordo commerciale con l'Inghilterra e anche la Russia. Perché? Perché io sto commerciando, e commerciando io spendo burocrazia. Facendo un accordo commerciale, invece, vado a compensare questa burocrazia, avendo un commercio. Ora abbiamo il Bruges, abbiamo un edificio in più. Quindi andando negli edifici dovremmo trovare il porto, che ho appena costruito, credo. Il porto, eccolo qui. Il porto, vedete che ha un'occupazione di burocrati, impiegati, lavoratori, e ha il porto merci, invece, solo l'ora e meggio. Possiamo, ci apre, diciamo, un po' più la strada. In questo caso non abbiamo flotte, quindi abbiamo ancora potenza militare zero della marina, ma possiamo andare a vedere diverse cose, a poter pensare di commerciare prezzi più bassi. Insomma, la gestione economica è veramente complessa e io ci ho dedicato davvero poco tempo per pretendere di insegnare qualcosa. Questo video voleva essere solo una panoramica su quello che è Victoria 3 da un nabbo. Perché? Perché se mi capitasse a me di vedere un video del genere, io apprezzerei l'onestà, come ho detto io, di non sapere giocare, ma facendo vedere i vari menu potrebbe accendere qualche campanellina in me se fossi interessato a qualche gioco di gestione economica. E devo dire che questo gioco ha tanto da dare. Costa 49 su Steam. Come avete visto, è in italiano. Me lo chiedono sempre più persone. Ma perché è il gioco in italiano? Lo dico in video. Infatti, a quei commenti io generalmente non rispondo perché basta guardare il video. Anch'io prima di fare domande su video di altri, guardo il video, insomma. Quindi, va bene. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se avevate notato questo titolo, non l'avevate considerato, se questo video ha contribuito magari ad aumentare il vostro interesse, ad informarvi ulteriormente su gente che lo fa proprio come tema principale la gestione economica, tra tutti e Andrew Channel. Fatemi sapere qua sotto nei commenti. E alla prossima. Ciao ciao.